Piaceli è stato da sempre un punto di riferimento per tutto il territorio, sette anni di attesa siamo riusciti a realizzarlo, ci sono 200 mila euro del comune di Montorio, un primo punto, un percorso che è ancora lungo, perché questo centro sportivo, un centro sportivo che è stato da sempre un fiore all'occhiello, partirà adesso un lavoro di 5 campi da padel di cui 4 coperti, 400 mila euro la riqualificazione di impianti della piscina e poi circa 2 milioni di euro il campo parrozzani, quindi un'eccellenza che vogliamo continuare a essere nel territorio e non è un caso che gli amici del Teramo Calcio ci abbiano chiesto di poter giocare qui la domenica in questa fase di campionato di ripartenza di una società sportiva. E voi siete stati subito disponibili nel risolvere questa problematica al città di Teramo? Ci mancherebbe altro, Teramo è un nostro punto di riferimento, è il capoluogo e al di là degli schieramenti politici va sempre supportato, a maggior ragione oggi, alla luce anche di queste elezioni politiche dove non ci sarà nessun rappresentante della provincia di Teramo. Che interventi avete fatto sul Pigliacelli giusto per fare un riassunto? È una riqualificazione del manto, una riqualificazione intorno al campo e poi il prossimo passaggio sarà anche una riqualificazione della pista di Atlerica, anche qui si richiederà un budget di circa 500 mila euro. Il centro sportivo che quindi tra qualche tempo sarà un altro fiore all'occhiello di Montorio? Abbiamo avuto questi finanziamenti legati al PNRR, i tempi sono stringenti quindi questo va dalla nostra parte, quindi gli uffici sono costretti ad andare veloci, se no perderemo i finanziamenti. Per farvi un esempio i lavori poc'anzi enunciati dello stadio, quindi un altro stadio che sarà il Parrozzani e la piscina devono partire entro l'inizio del 2023. E tempo fa si parlava di un interessamento proprio per la riqualificazione, la realizzazione dei campi da padol dell'ex presidente del Teramo Franco Iachini, è ancora un interesse che c'è? Partiranno i cantieri entro il 20 settembre di questa società che ha vinto il project financing che investirà su Montorio circa 500 mila euro, forse di più con l'aumento prezzi e avrà in concessione uno spazio abbandonato da 30 anni che diventerà un importante riferimento per il padel.